salve ragazzi vediamo insieme di concludere questo nostro percorso all'interno della gerusalemme liberata l'opera più importante del tasso in questa lezione conclusiva divisa in due parti questa è la prima parte per cui salve a tutti eccomi qui eccomi qui a parlarvi appunto della gerusalemme liberata a fare questa sintesi che spero vi potrà essere utile quindi cominciamo parlando di che cosa parlando intanto della genesi e delle vicende compositive di quest'opera che è stata un'opera lunga complessa che ha accompagnato tasso sin dal primo momento della sua ideazione per gran parte per quasi tutta la vita per tutta la vita potremmo dire quindi vediamo le fasi compositive della gerusalemme liberata cominciamo col dire che nel 1559 e il 1561 il giovane torquato tasso si dedicò alla stesura di quello che doveva essere un poema epico che lasciò però incompiuto intitolato gerusalemme un poema epico di cui ci restano 116 stanze quindi è rimasto sostanzialmente a livello di abbozzo è del 1562 il rinaldo e dal 1565 al 1575 per ben dieci anni torquato tasso si dedicò alla stesura del suo capolavoro assoluto la gerusalemme liberata ora questa storia è una storia abbastanza complessa e controversa anche perché noi di fatto stiamo leggendo un poema che tasso non ha mai accettato nel senso che tutti i lettori del tasso sia contemporanei sia i posteri hanno concordamente ritenuto la gerusalemme liberata assai migliore rispetto alla gerusalemme conquistata che era la versione finale del poema rivista corretta trasformata fondamentalmente dal tasso e che il tasso stesso dette alle stampe nel 1593 quindi questo dato il fatto che comunque noi apprezziamo qualcosa che tasso sostanzialmente non aveva approvato dal punto di vista della pubblicazione è un dato abbastanza interessante andiamo andiamo oltre vediamo parliamo della trama della gerusalemme liberata come sapete la gerusalemme liberata riguarda la prima crociata però tasso si dedica nello specifico alla trattazione della parte finale della prima crociata quindi la trama è assai più lineare e semplice di quanto non sia per esempio la trama dell'orlando furioso che rappresentava in qualche modo un modello con cui torquato tasso doveva e voleva confrontarsi dato il grandissimo successo che l'orlando furioso aveva avuto nel nel cinquecento e anche in seguito come ben sappiamo ma l'orlando furioso è caratterizzato da questa struttura estremamente complessa labirintica labirintica ricca di digressioni estremamente mobile che va che che si distende su tutto l'orbe terraqueo e dal cielo dal mondo della luna fino alla terra quindi a questa grandissima complessità compositiva che l'autore la riosto domina con grandissima maestria no viceversa tasso sceglie invece una struttura assai più lineare nella quale si alternano episodi storici principali e digressioni secondarie in maniera tale da conferire al tutto una una caratteristica quella che possiamo definire varietà nell'unità ma torniamo indietro torniamo indietro perché mi preveva mi premeva anche proprio ragionare della struttura della gerusalemme liberata sono venti canti divisi in cinque parti non a caso corrispondenti ai cinque atti della tragedia classica quindi anche in questa scelta strutturale noi che cosa vediamo vediamo il classicismo di tasso e il suo desiderio di adeguarsi alla poetica aristotelica che era stata riscoperta da poco e che in qualche modo rappresentava una sorta di norma di regola a cui gli autori non potevano sfuggire è proprio una caratteristica della seconda metà del cinquecento questa questo desiderio di obbedire ad ad una autorità lo possiamo vedere per quanto riguarda il potere per quanto riguarda la contro riforma ma lo vediamo anche nell'ambito della storia dell'arte no la grande libertà lo sperimentalismo se vogliamo era stato proprio dell'umanismo quattrocentesco la la fioritura del rinascimento nei primi venti trent'anni del secolo lasciano il posto a questa sorta di rigidità questa ricerca di modelli a cui rifarsi a questa come dire accentuazione estrema di un atteggiamento classicistico un'accentuazione estrema di un atteggiamento classicistico che poi prenderà il nome di manierismo ma di questo parleremo in un'altra lezione quindi ricordatevi 20 canti cinque parti corrispondenti ai cinque atti della tragedia classica secondo quanto insegnava aristotele parliamo dei personaggi principali i personaggi principali sono personaggi in generale affascinanti perché sono personaggi molto contraddittori e molto approfonditi dal punto di vista dell'analisi e dell'indagine psicologica a differenza per esempio dei personaggi dell'orlando furioso perché l'ariosto non era granché interessato ad analizzare le contraddizioni psicologiche dei suoi personaggi ad analizzare più di tanto la loro interiorità era interessato soprattutto a presentarci personaggi estremamente dinamici e soprattutto a costruire le relazioni fra di loro e le relazioni fra di loro e le relazioni con il contesto narrativo circostante quindi i personaggi dell'ariosto non sono personaggi approfonditi psicologicamente non perché l'ariosto non lo sapesse fare ma perché non lo voleva fare perché era interessato ad altro casomai al dinamismo della vicenda viceversa il tasso forse anche proprio per i torrenti interiori che si porta dietro per questa sua tendenza alla malinconia per questo suo spirito saturnino che proprio tipico non soltanto di lui ma in generale degli autori appartenenti alla corrente del manierismo che vi ho accennato prima proprio per questa sua tendenza per questa sua caratteristica come dire proietta le sue contraddizioni le sue ansie le sue angosce nei suoi personaggi che sono personaggi fondamentalmente tormentati e dotati di una grande ambiguità quali sono i personaggi principali nel campo tra gli uomini noi vediamo goffredo di buglione e peraltro un personaggio assai rispetto a quello che vi ho detto prima un personaggio forse meno complesso meno affascinante di altri forse proprio perché goffredo di buglione deve incarnare il prototipo o lo stereotipo se vogliamo del perfetto comandante cristiano di colui che riconduce all'ovile suoi compagni erranti come tasso ci dice nel proemio del dell'opera ma più interessanti di goffredo di buglione sono rinaldo il capostipite della casa d'este e soprattutto il tormentato sfortunato eroe tancredi che questa ambiguità questa duplicità questa difficoltà in qualche modo a compiere la propria missione eroica la mostra in tutta la sua in tutta la sua evidenza e poi abbiamo i pagani argante e solimano richiamo la vostra attenzione su questo dipinto è la morte di clorinda del tintoretto un dipinto che il critico d'arte argant ha definito forse quello che meglio esprime la tensione drammatica e tragica dell'episodio narrato dal tasso bisogna dire che la gerusalemme liberata è stata fonte di grande suggestione per gli artisti sia contemporanei a tasso sia successivi a lui i personaggi femminili appartengono tutti al campo pagano sono l'affascinante magarmida la guerriera clorinda e l'appassionata erminia fra clorinda e erminia possiamo dire che c'è un rapporto di antitesi tanto erminia è fragile innamorata femminile tanto clorinda è la classica donna guerriera la cui la cui fisionomia in qualche modo è modellata su quella delle amazzoni o su quella di bradamante nell'orlando furioso ma anche lei con le sue inquietudini le sue contraddizioni la sua tragicità appunto rimarchiamo negli eroi cristiani si intreccia una psicologia doppia che consiste in che cosa in estrema sintesi consiste proprio nel contrasto che c'è fra il senso del dovere dell'eroismo e le passioni e gli smarrimenti psicologici è un contrasto che noi mettiamo anche nell'autore perché l'autore da un lato voleva essere un buon autore secondo quelli che erano i principi e gli spiriti e lo spirito della sensibilità artistica del secondo cinquecento della contro riforma del rispetto delle regole eccetera ma al tempo stesso però non poteva reprimere la sua inquietudine il suo smarrimento la sua passione e nella gerusalemme liberata infatti noi ravvisiamo questo bifrontismo di cui avete già sentito parlare cioè questo contrasto fra dovere da una parte e tutto il resto in qualche modo affascina tasso il senso della libertà il fascino che esercitava su di lui il ricordo del rinascimento e di una libertà che ormai era andata perduta sia per l'italia dal punto di vista politico e storico ma anche per gli artisti in larga in larga parte che erano costretti in qualche modo a questo rispetto dei modelli e dei canoni classicistici ecco nel tasso è presente questa contraddizione che si manifesta appunto in questa possibilità di una duplice lettura della gerusalemme liberata cioè noi leggendo la gerusalemme liberata bisogna sempre andare oltre la superficie e andare a vedere quello che il tasso ci vuole dire veramente forse anche contro la sua stessa volontà quindi senso del dovere dell'eroismo passioni e smarrimenti psicologici in contrasto fra di loro che caratterizzano gli eroi cristiani che sono sempre tentati dalle forze ambigue del male e per quanto riguarda invece gli eroi pagani gli eroi pagani destinati fatalmente alla sconfitta però hanno una loro grandezza tragica una loro disperazione un loro come potremmo definirlo titanismo e non a caso la gerusalemme liberata non a caso il tasso sia per le sue vicende biografiche particolari sia appunto per queste caratteristiche ho cercato in qualche modo di sintetizzare in questa prima parte della riunione della lezione ecco il tasso e la sua opera sono hanno rappresentato sempre diciamo una grande fonte di interesse di fascino per esempio per gli artisti del romanticismo alla prossima la seconda lezione segue a breve grazie grazie Grazie.